Ok. Certo che fare una piacera con voi è proprio un piacere. La mia passione per la pittura mi porta sempre a conoscere gente bella e nuova. Ti ringrazio molto. Sai, io che lavoro all'agenzia di viaggi, conosco i gusti delle persone e so per il secco che gli piace molto andare in percavila. Oh, ma il comandante dov'è? Allora, bella gente, si parte? Certo, comandante. È da più di un'ora che lo aspettiamo. Si può, ma faccia qualcosa. Certo, comandante. Beh, io sono stata a perché te avevo guardi che fai. Vabbè, io ero un faccio, sono stata a farmi la doccia per un'ora. Ma allora che è stato? E tu? Sono sempre stata abituata. Finite? Ma, ti pare con questa faccia qua? Io non c'ero. Come non c'ero? Non c'ero, non ho visto. E tu? No. Scusa, Sergio, sei stato tu? No. Tu dì di no. No. Eri al? Ero al timone. E tu, Ubi? No, io no, ero qua, ero al fiocco. Che fiocco che non c'è? Allora, il fiocco. Ah, il fiocco? Scusa. Ma sentate un attimo, ma cos'hai in mano? E io? Eh, è un biglietto a viaggio. Cosa doveva dire lei? E' un volatino? E' un volatino. E' un volatino. E tu, forse? Io no, eh. Però è un inizio importante. E te piuttosto che sei uscita dal bagno dove c'erano i coltelli rossi? Secondo voi, chi sarà stato a ucciderlo? Ma sentite un souvenir forte. OH! Ah, eee? Grazie a tutti.